Alla Young Cup anche Luca Ariatti, ex giocatore professionista, ex giocatore che ha calcato anche campi importanti. Un giudizio su questa manifestazione, tante squadre di livello e più che altro tanti gol abbiamo visto. Sì, sono sempre ottimi tornei, organizzati bene, con passione. La posa scolastica permette ai ragazzi di poter dedicare due o tre giorni a questo torneo. Noi detti i lavori ne approfittiamo sempre perché ci permettono di avere sempre un'idea e di essere a contatto con le squadre professionistiche non qui dalla Toscana. Quindi insomma una giornata bella, con un bel sole, i ragazzi stanno dando il meglio di quello che hanno e quindi insomma è sempre molto bello. Luca Ariatti adesso fa il procuratore e quindi si è alla ricerca di stelline in prospettiva. E' ancora un po' presto però per individuare i veri talenti del domani quando si parla di esordienti 2002 in questo caso. Sì, sì, è chiaro che oggi è un'occasione introduttiva per prendere un po' visione dei ragazzi, di quello che sarà poi il futuro del calcio toscano. E mi auguro per loro insomma che qualcuno possa anche raggiungere grandi traguardi. Oggi un po' tutto, nonostante insomma i ragazzi sono molto giovani, è un po' tutto anticipato, insomma c'è grande attenzione e le tribune sono sempre piene anche da detti i lavori. Speriamo insomma che non manchi mai la loro voglia, la loro voglia di divertirsi in campo e di fare insomma di questo sport poi anche un lavoro futuro, perché no?